Grazie, grazie a tutti. Per quanto riguarda i miei cellulari c'è il mobile, un sms al 48444 con il codice della signorina. 23. 23, brava. Grazie. Ah, non chiedermi perché, ne ho abbastanza dei tuoi sé, dei valori, dei tuoi guai, che ti uccidono lo sai. Ora vivi la realtà, con la razionalità, non vuoi rischiare l'anima, ma così vivrai a metà. Ti prego, amma, sono pronta a piacere, convinta ancora di poter partire. E apro gli occhi e guardo su, sembra che il cielo cada giù, chiusa dai divieti tuoi, che mi uccidono lo sai. Provo a chiedermi perché, resto qui davanti a te, vorrei stringerti di più, senza dubbi, senza sé. Amma, ti prego, amma, solamente la mia anima, non la vedi ma tu amala. Amma, ti prego, amma, ti seguo, sono pronta a viaggiare, in ogni luogo per ricominciare. E aspetto solo di poter partire. Amma, ti prego, amma, l'elio giusto. Per imparare a cambiare il tuo modo d'amare. Adesso, sempre per questo. Non ti fidare delle tue paure. Adesso, la mamma, l'elio giusto. La so che porti il tuo cuore a viaggiare C'è una valigia chiusa nel mio cuore E ama, ti prego ama Solamente la mia anima Non la vedi ma tu amala Ti prego ama la Ama come non hai fatto mai Grazie Brava Romina Vieni, 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 vieni Adesso ascoltiamo i nostri signori Lorsignori deputati alla votazione Esprimete il vostro parere 3, 2, 1, via Per Romina Falconi che ha cantato Ama Che ha ricevuto Eccolo, bella votazione 8, 8, 8, 8, 7, 7 Ringrazia Romina Grazie Grazie L'ultima finalista tra i giovani Però dell'ultima finalista tra i giovani